L'artista di Stenzia Riese, buona serata a tutti, giusto un paio di pensieri poetici per certi versi intimamente connessi perché gioca spesso con le parole con questo dicitura, dove nasce, dove muore, dove inizia un qualcosa, dove probabilmente quel qualcosa si interrompa ciò che noi viviamo quotidianamente, ciò che il nostro più intimo pensiero ci porta a delle valutazioni profonde a livello introspettivo su ciò che magari abbiamo vissuto, come l'abbiamo vissuta, cosa ci ha portato e quant'altro. Il parametro di riferimento fra una delusione e un'illusione, che adesso vedremo più nello specifico, la dicitura è dove nasce una delusione spesso muore un'illusione, cosa significa tutto ciò? Che una delusione è uno stato d'animo che per certi versi ti frammenta, ti surclassa, ti frantuma perché non puoi o non hai accettato quella sensazione, quello stato d'animo, quel bene, quell'amore fate voi e spesso prendi atto che ci è potuto essere un'illusione, hai creduto in qualche cosa che probabilmente non esisteva era un'illusione, gli indiani lo chiamano mai, ecco la magia, quindi un qualcosa che non esiste quindi dove nasce questa delusione, benedetta delusione, spesso muore anche un'illusione cioè prendi atto che probabilmente quello che hai visto è semplicemente un qualcosa di poco consistente altra, valutazione dove nasce una meretrice probabilmente muore una subito l'aspettatrice qui c'è una provocazione anche forte, nel senso che prendiamo atto che magari ci sono delle prostitute che lo fanno per salvaguardare i figli, per aiutare i figli, lo fanno per i figli, per dare da mangiare i figli, ok ma non tutte sono prostitute perché io considero una prostituta probabilmente più peccaminosa quella che lo fa di azione e non di fatto delle persone che hanno bisogno di lavorare e si mettono a fare tutto è il mestiere più antico del mondo e quindi probabilmente non puoi necessariamente puoi giudicare una meretrice però c'è il gioco forza, questo sempre giochetto tra nasce, muore e quant'altro inizia e finisce che dove nasce questa meretrice spesso muore o probabilmente, ecco probabilmente ci può essere muore questa subito l'aspettatrice, nel senso che è un'aspettatrice subito l'ho un attimino ecco come possiamo dire per certi versi una donna che naviga sott'acqua cioè nel senso che non è la prostituta in quanto tale quella che può creare delle problematiche perché ci si può andare o meno, ognuno fa le proprie valutazioni quando magari credi che una donna ti abbia potuto dare tanto e hai valutato che ha giocato i tuoi sentimenti puoi anche un attimino essere cattivello pensando ma questa ragazza era una stata nei miei confronti una gran puntini puntini perché subito l'aspettatrice, nel senso che si è vissuto quel momento di gloria e poi potenzialmente o presumibilmente ha preferito essere una subito l'aspettatrice, una spettatrice che navigava sott'acqua si è divertita e giri pagina, altro giro, altra corsa, l'artista esistenziale si può la sapere a tutti